benvenuti nella sessione due che riguarda la presentazione il commento dei dati sulle imprese lombarde ringrazio tutti coloro che hanno scelto di prendere parte a questa sessione sono lì a coniglio e coordino l'ufficio territoriale per la lombardia dell'istat e ringra colgo questa occasione per ringraziare tutti i miei colleghi che hanno attivamente contribuito alla realizzazione della rilevazione poiché la sede territoriale è stata fortemente coinvolta durante le operazioni sul campo del censimento delle imprese presentiamo oggi i dati del fascicolo regionale di approfondimento del censimento delle imprese che già presente sul sito dell'istituto e risultati di due rilevazioni sulle imprese effetturate durante l'emergenza sanitaria del 2020 questi dati saranno poi analizzati e commentati in termini di situazione e prospettive delle imprese lombarde come da programma dopo questa mia breve introduzione darò la parola ad alberto vitalini ricercatore della sede territoriale dell'istat per la lombardia e il collega presenterà i dati proprio del censimento delle imprese in plenaria sono già stati richiamati i più importanti concetti in termini di metodologie di organizzazione dei risultati il censimento permanente delle imprese fa parte di un sistema più ampio dei censimenti permanenti economici di cui fanno parte il censimento dell'agricoltura che è in corso attualmente il censimento delle istituzioni pubbliche anche questo in corso e il censimento delle istituzioni no profit che sarà svolto l'anno prossimo e questi censimenti hanno ovviamente modalità diverse e anche cadenze frequenze differenti per quanto riguarda approfondimenti sul disegno campionale campionario il calcolo e le stime territoriali rimando alla nota metodologica del report nazionale che è presente sul nostro sito e che è stata presentata il 7 febbraio del 2020. La parola passerà a Flavio Verrecchia che è primo tecnologo dell'ufficio territoriale di Milano su situazioni e prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria che presenterà e presenterà quindi risultati delle due rilevazioni sulle imprese svolte durante il periodo covid. Anche queste presenti sul sito nella sezione Istat per il territorio. L'Istat ha voluto fornire informazioni sull'emergenza sanitaria in tempo reale che ha messo a disposizione anche a seguito di rilevazioni ad hoc con l'obiettivo di supportare e monitorare la ripresa. I temi sono vari, abbiamo la salute, la demografia, la società, l'economia e anche il territorio. Terminate queste presentazioni avremo poi tre ospiti, tre autorevoli esponenti di importanti istituzioni sul territorio che ci illustreranno le loro analisi sui dati che sono stati presentati prima. I nostri ospiti sono il professor Paolo Mariani, ordinario di statistica economica presso l'Università Milano Bicocca, dove è docente di statistica aziendale e anche direttore del centro di ricerca dell'Università Applied Statistics Center, dove svolge attività di ricerca per promuovere e realizzare l'applicazione delle metodologie e statistiche all'interno delle imprese. Tra gli ambiti di studio particolare rilevanza assumono le tematiche legate al mercato del lavoro. È ovviamente autore di parecchi studi scientifici e ovviamente relatore di seminari e convegni come quello di oggi. La sua attività di ricerca si è svolta collaborando con la fondazione Censis, l'ISCOM, l'ISPE, l'ISPEL, la fondazione Brodolini. Si è perfezionato presso la linea rapporti sindacali e centri studi di Confindustria e poi come funzionario della linea rapporti economici presso Federmeccanica. È stato prima statistica alle search manager e poi business manager ad hoc research presso una multinazionale e direttore dell'area ricerca e sviluppo presso una società internazionale. Il suo intervento riguarderà la dinamica e la specializzazione dei sistemi economici locali. Ci illustrerà come il scensimento permanente delle imprese del 2019 offra la possibilità di indagare aspetti strutturali e comportamentali delle imprese lombarde e si focalizzerà sul loro dinamismo e le loro peculiarità di rilievo attraverso una lettura per macro settori economici. Ci racconterà come l'attitudine dell'economia lombarda ad espandersi può indicare modelli e traiettori di sviluppo utili ai fini di programmazione. Vedremo anche le relazioni tra le imprese, in particolare quando operano in qualità di committente, che mostrano una complessa e interessante rete di connessioni in termini di sviluppo di nuovi prodotti, di accesso ai nuove competenze e tecnologie. Le imprese della Lombardia non riportano particolari difficoltà nell'attivare le relazioni e la localizzazione incide positivamente sulla facilità di attivazione delle stesse. Passeremo poi la parola a Paola Monti, consigliere senior di Banca d'Italia. Dopo la laurea in Bocconi la dottoressa Monti inizia il proprio percorso professionale presso il servizio studi della Banca d'Italia, occupandosi di economie emergenti, politiche delle istituzioni finanziarie internazionali e commercio internazionale. La sua esperienza si arricchisce con l'analisi dei studi sulla bilancia dei pagamenti. Attualmente lavora presso la sede di Milano della Banca d'Italia nella divisione analisi e ricerca territoriale, dove segue come ricercatore le tematiche connesse all'andamento dell'economia lombarda, con particolare attenzione agli aspetti reali ed è anche sostituto del capo unità. Il suo intervento riguarderà la situazione e le prospettive dell'impresa a livello regionale. Nella sua esposizione arricchirà gli spunti offerti dal fascicolo regionale Istat con qualche osservazione delle analisi della Banca d'Italia sull'economia della regione. I dati sui cambiamenti della demografia dell'impresa nell'ultimo decennio saranno messi a confronto con le informazioni sull'andamento del valore aggiunto. Si passerà all'argomento della produttività, che nel periodo di ripresa successiva alle crisi inizio decennio scorso aveva dato segnali di miglioramento in regione. Saranno inoltre anche citati l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione come motore di produttività e l'internalizzazione. Parlerà della crisi Covid e del teleogenio impatto sui settori produttivi, oltre che sulle indicazioni di rischio per i territori. Infine qualche considerazione sui censimenti futuri in relazione al piano di investimenti pubblici e agli impatti differenziati che la crisi ha avuto e sulle strategie messe a punto per superarlo. Il terzo intervento sarà di Federica Ancona, ricercatrice presso la struttura statistica di Polis Lombardia. La dottoressa ha sviluppato il proprio percorso professionale di ricerca da prima presso IRER, istituto regionale di ricerca della Lombardia, quindi in Polis Lombardia e adesso in Polis Lombardia, ente regionale di supporto alle politiche. Ha realizzato e coordina progetti di ricerca prevalentemente in ambito economico ma anche sociale. Dal 2011 si occupa dell'attività specifiche degli uffici regionali di statistica. Il suo intervento riguarderà le imprese e la sostenibilità. Prenderà spunto dall'attività di analisi e monitoraggio che Polis Lombardia ha intrepreso nel 2017 con il rapporto Lombardia dedicato allo sviluppo sostenibile. Partendo da un goal si approfondirà il tema della sostenibilità dal punto di vista delle imprese, con analisi sui dati di recensimento utili a rispondere alla riflessione in corso per la nuova edizione del rapporto, in cui si affronta il tema dell'impatto alla pandemia e la conseguente crisi economica sullo sviluppo sostenibile. Terminati questi interventi inizia lo spazio dedicato alle domande, dove qualsiasi partecipante può porle proprio nella, trovate lo spazio dedicato nella barra in basso nella schermata di collegamento a Zoom. Prima di iniziare gli interventi vorrei porre l'attenzione su cinque indicatori che reputo molto importanti per quanto riguarda la nostra regione. Il 50% delle imprese con tre addetti in più investono in capitale umano e formazione. Quasi il 65% delle imprese, sempre con tre addetti in più, investono nella riduzione dell'impatto ambientale. Sono impegnate in progetti di innovazione quasi il 44% delle imprese, sempre con tre addetti in più. A seguito del Covid, il 19% delle imprese hanno migliorato o hanno introdotto la comunicazione interna digitale. Il 35% delle imprese con dieci addetti in più vendono anche su mercati dell'Unione Europea. Termino la mia introduzione, avvio quindi la presentazione dei dati, ricordando i relatori rispetto dei termini fissati del programma e considerato anche che siamo in ritardo rispetto appunto ai tempi fissati. Ringrazio tutti e do la parola al collega Vitalini per il primo intervento di presentazione dei dati. Grazie. Buongiorno, condivido lo schermo. Iniziamo subito la presentazione. A questo punto dovreste vedere la prima schermata. In questo intervento parleremo della struttura, dei comportamenti e delle strategie delle imprese. Utilizzando i risultati, utilizzando i dati della rilevazione multiscopo legata al nuovo censimento permanente delle imprese. Tale rilevazione è stata realizzata tra maggio e ottobre del 2019 e l'anno di riferimento dei dati è il 2018, cioè prima dell'emergenza Covid. Quando questi dati sono stati raccolti, nessuno immaginava cosa sarebbe successo dopo. Pertanto noi vediamo una fotografia pre-Covid. La rilevazione ha coinvolto in Lombardia un campione di circa 50.000 imprese con tre o più addetti attivi nei settori industrie e servizi, che rappresentano un universo di circa 200.000 imprese regionali che impiegano oltre 3 milioni di addetti. I risultati della rilevazione multiscopo, un primo disclaimer caveat, i risultati della rilevazione multiscopo riguardano le imprese e non le unità locali. Pertanto alcune considerazioni riferite alla regione Lombardia vanno prese con grano salis e per una loro completa comprensione andrebbero integrate con una contemporanea analisi delle informazioni sulle unità locali. Quest'operazione va oltre lo scopo di questo intervento che è quello di riprendere in modo sintetico alcuni dati presentati nel più ampio articolato Report Lombardia 2019, al quale si rimanda per approfondimenti. Come prima cosa parleremo della struttura delle imprese. Darò solo alcune informazioni su questo aspetto dal momento che sarà ripreso negli interventi del mio collega Flavio Verrecchia e dei successivi relatori. Circa un'impresa italiana su 5 è lombarda e circa un addetto italiano su 4 è impiegato in un'impresa lombarda. Questo dato da solo conferma l'importanza della Lombardia nell'economia nazionale. Le micro e piccole imprese sono una costante nel tempo. Il 96,4% delle imprese comprende dai 3 ai 49 addetti. Era il 96,6% nel 2011. Oltre a questo segnale di continuità si registrano però nel tempo alcuni segnali di cambiamento del sistema produttivo. Una diminuzione del numero delle imprese, la numerosità delle imprese è diminuita del 3,7% rispetto al 2011 e un aumento della dimensione media delle imprese. Cala il numero delle imprese ma cresce quello degli addetti. A fronte della riduzione del numero nel periodo 2011-2018 in Lombardia si è verificato un incremento di oltre 158 mila addetti più 5,2%. Avanzia il terziario e l'industria perde terreno. Aumenta l'occupazione nei servizi, in particolare nei servizi non commerciali. Diminuisce l'occupazione nell'industria, in particolare nelle costruzioni. Avanza il terziario, l'industria perde terreno ma la Lombardia continua a caratterizzarsi per la rilevanza delle imprese manifatturiere. Sono 42 mila, il 21-22% del totale le imprese che svolgono attività manifatturiera e registrano il 28% degli addetti. La Lombardia, va detto, vante un'eccellenza manifatturiera con un valore aggiunto lordo di quasi 70 miliardi di euro dato del 2016. Considerando l'andamento dell'occupazione prima del Covid si poteva notare che era in ripresa nel triennio 2016-2018 con un deciso ricorso alle assunzioni a tempo indeterminato. Questo dato potrebbe risultare superato considerati gli avvenimenti successivi. Nel questionario comunque venivano indagati anche gli ostacoli incontrati nell'acquisizione di risorse umane, ostacoli che potrebbero mostrare ancora oggi tutta la loro attualità. Sono soprattutto fattori di costo a ostacolare l'acquisizione di nuove risorse umane. L'eccessivo costo del lavoro viene percepito come un vincolo soprattutto nel settore delle costruzioni. Il secondo fattore indicato dall'impresa è strettamente collegato al precedente. Oltre un quarto delle imprese considera l'incertezza sulla sostenibilità futura dei costi delle nuove risorse un rilevante freno alla conclusione di nuovi contratti. Allo stesso modo anche problemi di mismatch fra domande e offerta di lavoro sono percepiti come vincolanti, in particolare nelle imprese di dimensioni maggiori e del comparto industriale. Nel questionario sono indagati anche alcuni temi legati all'aspetto proprietario, all'assetto proprietario, alla responsabilità gestionale dell'impresa con un particolare attenzione al tema del passaggio generazionale. Non diversamente dal resto del paese, anche in Lombardia la struttura produttiva del settore privato è caratterizzata dalla prevalenza di imprese a controllo individuale o familiare. Circa tre imprese su quattro sono controllate da una persona o da una famiglia. La natura prevalentemente familiare delle imprese italiane non riguarda solo la dimensione del controllo ma anche la dimensione gestionale. Circa nove imprese su dieci sono gestite direttamente dall'imprenditore o socio principale o unico o da un membro della famiglia. Circa un'impresa, poche, su dieci ha affrontato un passaggio generazionale nel periodo 2013 e 2019. Il passaggio generazionale ha comportato di fatto il mantenimento della famiglia proprietaria o controllante o il suo rafforzamento. Non c'è stato un cambiamento. Questi dati potrebbero configurare un segnale di difficoltà delle imprese familiari Lombarde ad aprirsi a forme di ridistribuzione di responsabilità aziendali basate sulla valorizzazione di nuove competenze esterne alla tradizione familiare. Considerando il mercato delle imprese, le imprese vendono su mercati prevalentemente locali, comunali, regionali, nazionali in competizione con altre imprese locali. Circa due imprese su tre vendono e hanno concorrenti in Lombardia. Circa un'impresa su tre vende in paesi dell'Unione Europea, una su quattro in altri mercati europei non è e solo una su otto nel resto del mondo. Le conclusioni non variano sostanzialmente se si analizzano i dati anche rispetto all'area di localizzazione dei principali competitori. L'ampiezza del mercato di riferimento cresce al crescere della dimensione aziendale, come era logico immaginarsi, e anche il raggio d'azione varia in funzione del settore produttivo. Nel comparto industriale una quota compresa fra circa il 42% e il 55% opera su mercati extra-UE e UE, cioè il comparto industriale è spinto verso l'esterno. Se si considerano le priorità delle imprese Lombardi troviamo i primi due posti, la difesa della posizione di mercato e l'aumento dell'attività in Italia. E coerentemente con l'informazione della slide precedente troviamo all'ultimo posto l'aumento di attività all'estero. Nel questionario è approfondito anche il tema della delocalizzazione, che può essere un strumento di conquista di nuovi mercati. La delocalizzazione produttiva coinvolge una minima percentuale di imprese, 1588-3% circa. La delocalizzazione avviene più frequentemente, come è ben noto nel comparto manifatturiero, e è di tipo leggero, cioè la maggior parte delle forme di delocalizzazione consistono nella stipula di accordi o contratti e non in investimenti diretti nel paese. Inoltre spesso i prodotti realizzati all'estero tornano in Italia. Considerati questi dati, la scelta di delocalizzare non sembra essere la motivata principalmente dalla possibilità di conquista di nuovi mercati. Le imprese e la competizione. Nel gioco economico le imprese sono in competizione fra di loro. Nel questionario si è chiesto alle aziende di valutare la propria capacità competitiva e quali erano i loro punti di forza e di debolezza competitiva. Le imprese intervistate si sentono competitive. Nel 2018 oltre il 72% delle imprese con dieci addetti e più ritiene che la propria capacità competitiva è più o meno uguale a quella dei concorrenti e il 17% addirittura più forte. Su cosa puntano le imprese? In media sempre. Puntano sulla qualità dei beni e servizi e sulla professionalità e competenza del personale, più che sul prezzo di vendita o altri strumenti come la diversificazione dell'offerta. Come elementi di debolezza competitiva invece incontriamo il peso degli obblighi amministrativi burocratici e la mancanza di risorse finanziarie. Le imprese, e questo è un aspetto interessante, non solo competono ma anche cooperano nel gioco economico e è diffuso il gioco di squadra. Circa il 56% delle unità produttive della regione dichiara di avere relazioni economiche con altre imprese o enti e la dimensione aziendale influisce in modo positivo sulla propensione a instaurare relazioni con altri soggetti. La tendenza inoltre a instaurare relazioni è una caratteristica prevalente del comparto industriale e in particolare delle costruzioni. Emergono invece delle difficoltà da parte delle piccole imprese a giocare in squadra. Oltre un quinto delle imprese, siamo in linea comunque col dato nazionale, ritiene che la limitatezza delle proprie dimensioni aziendali costituisca un rilevante ostacolo ad avviare relazioni con altri enti. la principale fonte di finanziamento delle imprese è l'autofinanziamento, il 72,5% delle imprese vengono escluse le imprese attive nel settore finanziario assicurativo in questo calcolo, dichiara di avervi fatto ricorso nel 2018 e il tradizionale canale bancario rappresenta la seconda fonte di finanziamento. Interessante vedere molto limitato il ricorso ai mercati azionari, raccoglie risorse sui mercati azionari solo il 4,8% delle imprese, anche se il risultato non è alto, è sempre mediamente superiore a quello del resto del Paese. Le piccole imprese accedono, questo è anche un dato noto in letteratura, con difficoltà molto maggiori a credito esterno e devono contare molto di più sull'autofinanziamento. Le due principali motivazioni del ricorso all'autofinanziamento, la prima esigenza di liquidità, finalità indicata dal 51% delle imprese e al secondo posto finanziamento di investimenti volti ad aumentare la capacità produttiva. L'utilizzo di finanziamenti esterni come strumento per soddisfare esigenze di liquidità caratterizza soprattutto il settore costruzione e commercio, mentre le finalità di investimento produttivo prevalgono nel comparto manufatturiero. È un mantra dell'economia che l'innovazione sia la base del processo di crescita economica, pertanto le ultime quattro slide, così do anche il tempo di finire, riguardano il tema dell'innovazione. Come area di spinta all'innovazione sono state considerate ricerca e sviluppo, tecnologie e digitalizzazione, capitale umano e formazione, internazionalizzazione e responsabilità sociale e ambientale. In queste aree considerate di spinta all'innovazione circa due imprese su tre hanno effettuato almeno un investimento, ma solo una quota limitata è coinvolta in attività di progettazione, di acquisizione, licenze e brevetti. Questo è un ulteriore dato interessante. Focalizzando l'attenzione sull'innovazione digitale, circa due imprese su tre hanno investito in almeno una tecnologia digitale, prevalentemente sulla connettività e sulla sicurezza informatica. Cioè che cosa vuol dire? Che il 42,6% delle imprese ha investito sulla connettività mediante fibra ottica e circa il 35% su quella 4G e 5G. Questa è la connettività e il 30,9% ha investito in sicurezza informatica. È però limitato il numero di imprese, 3,4 mila, che hanno investito in applicazioni di intelligenza artificiale e in internet delle cose, internet delle cose in letteratura associato all'industria 4.0 e è pensata come una grande spinta al sviluppo e alla crescita economica. Le tecnologie abilitanti. Nelle indagini sono state rilevate anche la produzione di tecnologie abilitanti. Le tecnologie abilitanti sono tecnologie ad alta intensità di conoscenza, associate a attività di ricerca e sviluppo, cicli di innovazione rapidi, spese di investimento elevati, posti di lavoro altamente qualificati. Per fare qualche esempio, tecnologie abilitanti sono state indagate nel campo delle biotecnologie, fotonica, nanotecnologie, micro e nano elettronica, tecnologie geospaziali e geomatica. Si fa quasi fatica a capire che cosa sono, ma è un bene questo. Nel 2018 un'impresa lombarda su 11 ha prodotto tecnologie abilitanti e una su sette le ha utilizzate. All'aumentare della dimensione di impresa, come era logico aspettarsi, si rileva un aumento della quota di imprese che producono e che utilizzano tecnologie abilitanti. Chiudo con l'ultima slide parlando di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e sicurezza. Ho inserito quest'area fra le aree di spinta all'innovazione perché è ritenuta da più analisti come un'importante opportunità di crescita per le imprese che hanno deciso di investire in tale ambito. Basti pensare al dibattito in corso sull'economia circolare come driver di innovazione da integrare con la sfida dell'industria 4.0. Detto questo, numerose sono le azioni nel campo della sostenibilità ambientale, della responsabilità sociale e della sicurezza messa in campo dalle imprese lombarde. L'81% delle imprese lombarde, 8 su 10, siamo in linea col dato nazionale, dichiara di aver intrapreso almeno un'azione riconducibile al concetto di responsabilità ambientale e sociale, oppure di aver attuato iniziative volte a incrementare i livelli di sicurezza all'interno delle aziende del territorio in cui opera. Ma c'è un margine di miglioramento. La quota di imprese lombarde che ha intrapreso azioni per ridurre l'impatto ambientale, 64,7%, è inferiore alla media nazionale, 66%. E anche le attività di responsabilità sociale a beneficio del tessuto produttivo locale sono sensibilmente meno diffuse fra le imprese lombarde, 24 in Lombardia contro il 29 nel resto del paese. Questo è uno dei pochi dati in cui siamo sotto la media nazionale. Per il resto siamo sempre per tutti gli aspetti sopra la media nazionale, in particolare per quelli di innovazione. Il mio intervento è finito, ho tentato di contenerlo il più possibile nei 20 minuti. Grazie per l'attenzione e ripasso la parola alla moderatrice. Grazie, grazie di questa presentazione. Passo la parola a Flavio Berrecchia per il suo intervento. Prego. Sì, condivido lo schermo, un attimo. Dovrebbe vedersi. Buongiorno a tutti. Anche se il collega ha recuperato qualche minuto, siamo indietro di una presentazione, cercherò di contenere il più possibile il mio intervento, che riprende quello della sessione penaria di oggi e tratta la situazione e il prospettivo dell'impresa di emergenza sanitaria a livello, però, territoriale, quindi per la Lombardia. Le aree che, dopo una breve introduzione, saranno trattate le due indagini Covid, quindi la prima e la seconda indagini che sono state svolte, come abbiamo sentito, nel corso del 2020 e che hanno avuto l'obiettivo di misurare anche gli effetti dell'emergenza sanitaria sull'economia. Questo sia in ambito economico, sia in ambito finanziario, sull'occupazione. La seconda indagine è un po' più estesa rispetto alla prima. Infatti, se vediamo a parità di tema, le sezioni trattate nella prima indagine che è stata tempestivamente realizzata e messe in campo a maggio, quindi appena alla fine del lockdown del 4 di maggio, e la seconda indagine che invece è stata fatta nel periodo autunnale, ma con un più ampio, una più ampia gamma di tematiche trattate. Qui, l'abbiamo sentito anche dall'introduzione del professor Kelly, noi abbiamo un'infrastruttura che è stata messa in campo nell'ultimo decennio, soprattutto che è quella degli archivi amministrativi, dell'archivio poi dell'occupazione, che ha fatto sì che alcune risorse potessero essere poi spostate sia sul portale delle imprese, sia sulla messa in campo di indagini, cosiddette MPS, multiscopo sulle imprese, per approfondire tematiche non sfruttate dall'informazione amministrativa, non presenti negli archivi amministrativi. Questo impianto, questa infrastruttura, queste risorse e questo investimento fatto nel corso di questi anni ha dato la possibilità in modo tempestivo di mettere in piedi un'indagine CAUI sugli effetti del Covid-19 su una popolazione ampia di imprese. Pensiamo in Lombardia il campione di 12.721 imprese con almeno tre addetti, dove tre addetti sono addetti medi, quindi più di due addetti e mezzo, insomma. Il campione è pari al 6,6% della popolazione target. Nella prima indagine e nella seconda indagine il numero di rispondenti è circa poco superiore al 50%. Questo dato è un dato che serve anche per la lettura e anche per la comprensione di quelli che sono i dati resi disponibili dall'Istat in questa prima fase, che tipicamente non prevedono molti incroci delle varie dimensioni nei vari domini di studio. Del resto si può anche dire che è stata fatta in un ambito, diciamo, emergenziale, certamente, ma non solo, è un'indagine senza obbligo di risposta, per cui è da sottolineare da una parte il risultato molto positivo e anche la partecipazione del sistema imprenditoriale italiano e Lombardo, in questo caso, e dall'altra parte, però, sulla significatività, la reale espansione universo e quelle che sono poi le possibilità di sfruttamento dei beni di studio, ci sono delle limitazioni. Per quanto riguarda l'occupazione di riferimento e quella tradizionale dei censimenti di industria e servizi, salvo alcune aree, appunto, che sono legate tipicamente ad altri censimenti, una strategia che è una strategia mista. Questo dato sul personale rispondente è l'unico dato che non si trova, diciamo, online. Tutto il resto, anche se non ci sono dei volumi specifici, è stato costruito con i dati disponibili in rete. Per quello che vi ho detto, eppure con i caveat inseriti dal collega Vitalini, cioè quello che stiamo parlando, quando parliamo dell'indagine, di dati sulle imprese che hanno un senso rispetto a certe dimensioni, ho inserito alcune slide sulle unità produttive, sui settori sospesi, per dare anche un taglio, in qualche modo strutturale, anche territoriale, alla presentazione, per capire alcune cose. Beh, in primo luogo, l'abbiamo visto, l'ha già detto Vitico e Vitalini, un quarto degli addetti di queste imprese, che possiamo chiamare strutturate in generale, ma in questo caso stiamo parlando di tutte le imprese italiane, in questa slide specifica, è in Lombardia. Ovviamente Lombardia ha un quarto degli addetti, su dati in termini di valore aggiunto, qui siamo su tutti gli addetti, quindi tutto il sistema economico, anche le micro imprese. però questo quarto di valore aggiunto corrisponde a un quinto di addetti e a un po' meno, il 19% delle imprese. Quindi in Lombardia sostanzialmente abbiamo una maggior produttività apparente del lavoro, evidentemente, rispetto alle altre regioni, e abbiamo imprese mediamente più, unità locale in questo caso, ma vale anche per le imprese, mediamente più grandi. rispetto alla regione, se in termini di valore aggiunto la Lombardia pesava il quattro, sostanzialmente, vediamo che invece Milano, per la Lombardia in termini di valore aggiunto, pesa il 50%. In termini di settori industriali, non inteso in senso stretto, cioè l'industria e le costruzioni insieme, vediamo che il peso però del valore aggiunto scende a un terzo del valore aggiunto regionale, e che è pari a quello, non più come veniva prima, per l'intera economia, è pari a, diciamo, al valore aggiunto di Brescia e di Bergamo. Ed è importante anche sul piano strutturale osservare che l'unica provincia che è diversa, o quantomeno almeno a 20 punti dagli altri, in termini di composizione e di settori di attività economica, è proprio Milano, che si contraddistingue per un 73% di valore aggiunto nell'ambito dei servizi avanzati. Ecco, questo ci interessa perché? Perché evidentemente se andiamo a vedere i settori sospesi, che, attenzione, qui non sono i settori sospesi trovati in termini di indagine statistica, ma sono quelli da archivio, e quindi applicando quelli che sono i decreti legislativi, fino al decreto ministeriale del 25 di marzo. Poi sono seguiti, è seguito un decreto ministeriale, un DPCM, a fine marzo, per poi passare a una seconda fase, la fase delle deroghe, e quindi del reinserimento nel mercato. Vediamo che, se guardiamo i settori sulla carta sospesi a quel tempo, vediamo che pesano moltissimo, pesano per il 49% delle imprese, e per un numero inferiore, un valore inferiore per quello che è il valore aggiunto, stanno a indicare anche che le imprese più colpite, le unità locali più colpite, le unità produttive più colpite, sono quelle più piccole, le micro imprese. Nella parte industriale vediamo che, rispetto ai settori, sembrano più colpiti rispetto a quelli, diciamo, dei servizi, proprio anche in termini percentuali. Se guardiamo le province, guardiamo, concentriamoci direttamente sul valore aggiunto, vediamo che i settori sospesi, così, sulla carta, sono meno nel Pavese, e sono in misura molto maggiore nel Bresciano e a Lecco. Guardando le filiere di attività economica, ci si rende conto subito che nel Pavese abbiamo un 20% dell'economia industriale che è sulla filiera alimentare e su quella della chimica e della farmaceutica. Per Lecco e Brescia questa pesa intorno al 7%, per dare un'idea di differenza e anche quindi di impatto e di chiusura, mentre dall'altra parte la parte più della meccanica, della produzione di macchinari piuttosto che della metallurgia è esattamente il contrario. Di nuovo Lecco e Brescia sono intorno al, oltre al 70% della manifattura della parte industriale, mentre Pavia e 20 punti sotto. Questo è semplicemente per dare un'idea di quello che era sulla carta la situazione. Dopodiché entrando invece nell'indagine, quindi nelle imprese con tre addetti ed oltre, vediamo che la situazione è quella, intanto quella già ricordata dal collega Vitalini, un quarto di questi addetti sono in Lombardia, di imprese lombarde, attenzione, c'è una differenza tra imprese lombarde e unità locali ed è una differenza importantissima proprio per la regione dove appunto le unità locali delle imprese di Lombardia sono anche in altri territori. Qua parliamo di imprese perché l'indagine va a investigare anche tematiche che hanno un senso a livello di impresa ma che poi sul piano territoriale servono alcuni accorgimenti per la vettura. Benissimo, un quarto sono in Lombardia con una dimensione di impresa importante, 17 addetti per impresa proprio per il fatto che sono imprese mediamente più grandi. Entrando nelle tematiche dell'indagine, qui c'è sempre la fonte nelle schermate che appunto sono dati che riguardano la prima indagine Covid e la seconda indagine Covid, beh, alla fine del lockdown in Lombardia per le imprese di 3-9 addetti non lo dico più sono queste sono quelle che hanno questa struttura solo il 27% e quindi un'impresa su 4 fondamentalmente è rimasta sempre attiva. Questo vuol dire che rispetto ai dati che abbiamo visto prima i decreti che hanno seguito quelli del 25 al 25 marzo hanno determinato ristrezioni ulteriori. Compaiono poi delle imprese che sono delle unità produttive che sono riprese prima del 4 maggio e queste anche per da aprile in poi sono arrivate le cosiddette deroghe quindi in qualche modo sono ripartite prima del 4 maggio. ora l'altro dato interessante è che già in questi due mesi tenete conto che tutte queste informazioni che sono abbastanza importanti sono sempre legate a un bimestre a periodi più brevi dell'anno evidentemente quindi sono un po' più esplosive rispetto a quelle tradizionali quelle che abbiamo appena ascoltato ecco l'1% in questo periodo dell'impresa ritiene che non riaprirà cioè che non riapre o non riaprirà più dopo il covid ebbene questa percentuale cresce raddoppia quasi nell'indagine successiva quando siamo appunto nell'autunno questi sono dati di autunno e è vero che migliora molto la situazione perché è totalmente aperta passiamo a 70% anche se c'è una quota di un terzo circa di imprese appunto che sono ancora sono ancora diciamo parzialmente aperte chiuse e addirittura è raddoppiata come dicevo la quota di quelle che non riapriranno più ebbene i settori più colpiti abbiamo visto anche un po' come la plenaria ma vengono ripresi certo c'è le costruzioni nella parte di industria in senso allargato le agenzie viaggio le attività artistiche sportive culturali i servizi alla persona i servizi alloggio la ristorazione cioè ci sono tutta una serie di servizi che sono anche soprattutto dei servizi che hanno visto diciamo con le restrizioni prolungarsi nel tempo ebbene in generale a cui si aggiungono 12,6% di imprese con nessun fatturato questo riguarda il primo periodo cioè il periodo del lockdown e se la situazione migliora nel periodo successivo perché evidentemente queste percentuali trasladano in qualche termine nell'ambito dell'aspettativa invece cresce il numero di imprese che prevede nessun fatturato o comunque un calo superiore al 50% tenete conto che ci sono anche dei fatturati in crescita in questi periodi che sono soprattutto quelli legati alla farmaceutica alle telecomunicazioni e alla chimica quindi ci sono ovviamente alcuni settori che hanno anche beneficiato da questa situazione quali sono le motivazioni del calo di fatturato nel periodo beh la principale motivazione è il calo della domanda causato dalle restrizioni ma anche in più in generale il calo della domanda interna ed estera in generale teniamo conto che i decreti governativi hanno previsto una riapertura immediata dopo il 4 maggio per il sistema industriale nel complesso ma invece per la parte dei servizi è stata una scelta differente che conosciamo benissimo le imprese hanno avuto un'altissima attenzione per quelle che sono le procedure di precauzione a contrasto alla diffusione del covid si tratta della quasi totalità per quello che è la sanificazione degli ambienti e dispositivi di protezione individuale ma forse la cosa più interessante è che in molti settori specialmente quelli industriali per la verità le strategie integrate di contrasto e di fusione del covid sono risultate più frequenti per quanto riguarda gli spazi di lavoro molte imprese hanno dovuto adattare in particolare il 55,8% delle imprese ha modificato o sta modificando gli ambienti di lavoro e ci sono ci sono dei settori che sono più in difficoltà di altri nell'adattamento che sono tipicamente quello delle costruzioni e anche la dimensione gioca un ruolo infatti le micro imprese sono più in difficoltà in tal senso per quanto riguarda i costi generalmente o spesso sono stati considerati importanti per le unità produttive ma non mi dilungo per quanto riguarda invece la gestione di politica del personale si attesta al 41% nella seconda fase del covid ma ha toccato punte del 64% delle imprese nella fase del lockdown ancora importanti le percentuali le quote di imprese che usano le ferie e altre misure temporanee e quindi evidentemente ci sono ancora un quarto delle imprese che le usano lo smart work che è arrivato a toccare come abbiamo visto un quarto delle imprese anche in Lombardia è sceso comunque a quote più elevate rispetto a quelle diciamo da cui sono partite infatti vediamo dopo un'impennata di marzo-aprile è scesa la quota di imprese di personale nel smart work e le imprese che ne fanno uso ma evidentemente è rimasta a livelli di 4-5 volte superiori a quelli da cui è partita per quanto riguarda gli effetti del smart work sono positivi in relazione alle nuove tecnologie e al benessere del personale e ci sono effetti negative sulle relazioni interpersonali dei lavoratori sull'efficienza aziendale e sulla produttività in generale per quanto riguarda gli aspetti finanziari due aspetti in generale la mancanza di liquidità è uno dei principali effetti della crisi e lo strumento più diffuso per soddisfare il suo bisogno di liquidità è certamente il nuovo debito bancario ci sono anche delle forme poco con frequenze molto basse ma ci sono anche delle forme diciamo innovative come l'equity per modificare le passività in termini appunto di equity per quanto riguarda i prestiti assistiti della veranzia pubblica sono stati richiesti da un terzo delle imprese e le motivazioni generalmente vedete questo grafico l'attività corrente è quella che ha avuto le motivazioni più forti mentre i costi fissi non comprimibili anche in questo caso ci sono state molte aziende che li hanno valutati ha preso questi prestiti con questa motivazione mentre i costi del movimento dei protogli sanitari non sono state tra le motivazioni delle aziende crescono la cognitività banda larga era già presente in modo importante cresce e la tecnologia in realtà la crisi pandemica è stato un acceleratore della trasformazione digitale delle imprese ma certamente la banda larga è stata la base di quelle che sono le trasformazioni in generale perché senza la connessione tutte le altre innovazioni sarebbero state evidentemente meno non sostenute dalla connessione quindi una crescita importante dei sistemi e applicazioni di videoconferenza finalizzate poi lo si fa benissimo lo smart work una crescita del servizio pubblico comunicazione digitale al pubblico quindi miglioramento del sito web che era già diffuso e di web analytics e strumenti di ottimizzazione come i canali social sono incrementati e anche i canali di vendita online anche se poi quello più utilizzato alla fine è l'email e facebook la sintesi di queste la sintesi di queste diciamo dell'utilizzo per covid e l'incremento delle tecnologie possiamo identificare intanto quattro tipologie ma soprattutto un'area matura che è quella rossa della tecnologia di connessione un'area che è quella verde che è quella della comunicazione esterna pratica di comunicazione esterna che in qualche modo è matura per i siti web e in evoluzione per quello che riguarda i canali social gli strumenti di ottimizzazione e l'area gialla che è quella basata sullo smart quindi servizi di virtual machine come la parte cloud server che ha avuto un'evoluzione importantissima e se anche sono cresciute invece la parte di e-commerce di piattaforme come Amazon con piuttosto che strumenti di pagamento o quantomeno di commercializzazione elettronica vediamo che quell'area è in sviluppo che ha avuto un'evoluzione grazie alla crisi pandemica ma diciamo che è ancora in sviluppo per quanto riguarda le ultime slide della presentazione vi sono certamente da una parte dei problemi operativi determinati dalla prolungata pandemia che sono fondamentalmente il rischio di liquidità ma anche un rischio operativo importante ma vi sono anche delle strategie messe in campo dalle aziende e anche lo spiazzamento lo spiazzamento è laddove c'è una strategia che cresce poi in autunno certo ci sono delle imprese immuni tra queste ma ci sono anche imprese spiazzate per motivi di pianificazione di organizzazione gap di mismatch di competenze piuttosto che di finanziamento abbiamo delle strategie di contrazione per esempio quelle di sostanziale riduzione dei dipendenti delle strategie di espansione come quella di produzione di nuovi beni e servizi relativi al 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 medesimo attico piuttosto che la l'ampliamento dei canali di vendita e così via io concludo questa carellata spero di essere stato nei tempi lasciando questa queste note conclusive con alcune delle informazioni che vi ho raccontato sintetizzate in una in una in una slide di di summary ringrazio per l'attenzione e passo la parola al moderatore grazie passiamo adesso al ai commenti dei dati presentati inizia qui come già detto prima il professore Paolo Mariani dell'università Bicocca prego professore grazie molte grazie uno degli aspetti più interessanti che abbiamo visto oggi già da questa mattina ha iniziato a parlarne il professor Kelly riguarda l'assetto dell'impresa dell'industria in Italia in particolare anche lui ha fatto alcuni accenni per esempio ai modelli di specializzazione dicendo che la Lombardia è una delle regioni con una maggiore evidenza anche perché ci ha detto che è la regione che forse è quella che ha il più basso rischio per quello che riguarda per quello che riguarda gli adetti noi cercheremo di fare una breve panoramica per quello che riguarda la dinamica e la specializzazione dei sistemi economici locali ovviamente focalizzandoci sulla Lombardia ne approfitto prima di iniziare la relazione per ringraziare gli organizzatori e i partecipanti alla sessione quindi l'obiettivo è quello di offrire una prima lettura della situazione delle imprese in Lombardia ovviamente attraverso un'analisi dei principali risultati del censimento permanente delle imprese guarderemo insieme una serie di indicazioni che riguardano l'analisi dinamica della componente regionale strutturale la specializzazione settoriale del nostro sistema economico locale e faremo dei focus sulla relazione tra le imprese oggi se ne è parlato parecchio mi rifaccio anche alla presentazione fatta dal dottor Vitalini che ha parlato di questo gioco di squadra attraverso relazioni quindi va un po' ad esaltare queste relazioni verticali di filiera e cercheremo di vedere anche con un altro punto di vista come queste attività vengono poi misurate dalla rilevazione che ha effettuato l'ISTAT quindi i motivi della relazione le principali difficoltà nell'attivare queste relazioni cosa succede all'interno dell'area funzionale e quali sono le imprese partner che vengono attivate questo è un po' il modello che intendiamo perseguire oggi per quello che riguarda la dinamica utilizzeremo una tecnica nota che si chiama shift and share che scompone la variazione assoluta della variabile economica occupazione che in questo caso per noi è l'ammontare degli addetti proprio nella nostra regione possiamo farlo perché abbiamo a disposizione due istanti temporali abbiamo il 2011 e il 2018 e quindi possiamo applicare questo tipo di analisi pur ovviamente con tutte le cautele che il metodo comporta questa analisi ci consente di scomporre la variazione assoluta della montare degli addetti in tre componenti fondamentali la prima componente è quella nazionale che misura l'apporto alla crescita regionale attribuibile all'andamento complessivo dell'economia nazionale la seconda componente è quella strutturale che dà invece l'effetto della maggiore o minore presenza nella nostra regione all'inizio del periodo considerato di settori produttivi che nel sistema economico nazionale poi sono risultati a più rapida crescita l'ultima componente è quella regionale che misura l'attitudine dell'economia lombarda ad espandersi più o meno di quanto ci si dovrebbe attendere in rapporto alla sua struttura produttiva iniziale se ogni settore di attività in esame si sviluppasse con la stessa misura del corrispondente settore a livello nazionale il quadro della nostra regione è abbastanza evidente questo è il confronto con l'Italia la tabella dei dati dalla quale sono partito per poter effettuare questa misura sono gli addetti appartenenti al campo di osservazione dimensionale settoriale del censimento per macrosettore economico quindi Lombardia e l'Italia per i due anni in valore assoluto ovviamente mi rifaccio a quello che è già stato detto prima anche dalla dottoressa Coniglio tutta la parte che riguarda la metodologia è disponibile in Insta quindi non ci soffermeremo su questo aspetto la dinamica regionale quella legata al numero degli addetti indica nel segno una sostanziale assonanza con quella nazionale di fatto quando in Italia alcuni settori crescono succede la stessa Lombardia potremmo dire anche di cedersi i servizi non commerciali segnalano una crescita superiore a quella degli altri marcosettori economici anche in relazione al dato Italia anche questo è immerso le costruzioni mostrano una riduzione significativa e l'industria così come definita presenta una contrazione pare circa un terzo del totale nazionale anche questo era stato evidenziato nello scenario introduttivo aumentano energie e acqua oltre al commercio all'ingrosso il dettaglio quindi questo è lo scenario di base all'interno del quale ci muoveremo andando a vedere la diversa composizione delle componenti della shift and share beh possiamo vedere che la componente nazionale è fortemente presente in tutti i macrosettori economici e quindi è sicuramente il driver di lettura vuol dire che buona parte della componente nazionale viene gestita anche dalla nostra regione la componente strutturale indica una partecipazione limitata ma sempre positiva alla dinamica dei macrosettori economici l'aspetto più interessante riguarda la componente regionale perché risulta rallentata in particolare nel macrosettore delle costruzioni ma anche nell'industria e nel commercio pur permanendo positiva nei servizi non commerciali in energia a gas e acqua si può vedere dal grafico qui che vedete in basso sulla destra come la componente locale questa in grigio effettivamente ha una un valore negativo per quello che riguarda il commercio all'ingrosso al dettaglio le costruzioni e il totale dell'industria questo aspetto del totale industria cercheremo di indagarlo ancora meglio prima facciamo una piccola verticalizzazione per quello che riguarda la localizzazione dicevo ne ha parlato il professor Kelly ha parlato della specializzazione noi utilizzeremo un coefficiente di localizzazione che fornisce elementi ovviamente di giudizio sulla specializzazione settoriale dei sistemi economici locali la lettura è molto semplice quando questo coefficiente di localizzazione è superiore ad 1 quindi super all'unità la nostra regione registra una quota di addetti nei diversi settori maggiore della quota dello stesso settore capitale quando il quotiente risulta inferiore ad 1 vuol dire che la Lombardia registra una quota di addetti nei diversi settori minore della quota dello stesso settore capitale per essere più chiari in questo grafico vedete riportati dopo aver fatto dopo aver traslato quindi l'origine degli assi in questo caso è il valore unitario e 1 vediamo come nel primo quadrante si posizionano il commercio l'ingrosso l'ingrosso il dettaglio il totale industria esclusse costruzione energia acqua questo ovviamente era un po' atteso però è interessante vederlo rappresentato vuol dire che sono i due settori che hanno una specializzazione maggiore rispetto a quella della nostra Italia i servizi commerciali che vedete qui nel secondo quadrante riportano una specializzazione in questo caso più elevata nel secondo periodo nel 2018 qui vedete che l'asse delle ascisse riporta il quaziente di localizzazione del 2011 e l'asse dell'ordinata il quaziente di localizzazione del 2018 mentre permangono in un quadrante in un terzo quadrante decisamente inferiore all'unità le costruzioni energia acqua quindi se volessimo un po' provare a tirarle fila l'industria vede una specializzazione maggiore di quella italiana in entrambi gli anni pur se in diminuzione rispetto al valore del 2011 qui basterebbe fare una bisettrice per vedere che effettivamente si trova al di sotto il commercio si presenta specializzato sui periodi in esame con una posizione di rilevanza per il 2011 l'abbiamo visto è questo qui i servizi non commerciali aumentano il valore del coefficiente nel 2018 mentre le costruzioni accentuano la diminuzione della specializzazione nel 2018 e invece l'energia acqua anche se in basso mostra piccoli miglioramenti ovviamente pur rimanendo con valori molto contenuti a questo punto potremmo concentrarci su uno di questi macrosettori in particolare guardando il profilo dei macrosettori ci accorgiamo che presenta una sostanziale assonanza con quello della grande ripartizione territoriale di appartenenza il nord ovest e dell'Italia ma l'industria esprime valori maggiori in termini di relazioni qui stiamo parlando come aveva già anticipato il dottor Vitalini delle relazioni che ci possono essere all'interno dell'azienda cioè vorremmo provare a capire quanto poi queste imprese si siano preparate anche non conoscendo l'esito ovviamente della pandemia neanche l'arrivo della stessa fossero un po' già legate tra di loro pronte a lavorare con modelli di tipo relazionale e vediamo che la Lombardia pur avendo un profilo tutto sommato assonante con la macro ripartizione con l'Italia si presenta più elevata per il totale dell'industria a questo punto non dirò più escluse costruzione energie e acqua perché altrimenti sforeremo i tempi come ci ha ricordato il dottor Verrecchia quindi proviamo a ridurre un po' lo sviluppo di nuovi prodotti e l'accesso alle nuove competenze e tecnologie posizionano la Lombardia prima delle altre geografie di riferimento e questa è una cosa molto interessante perché come vedete questi due valori sono il 22.5 e il 16.8 di gran lunga superiori al riferimento Italia ma anche al nord-ovest e il valore contenuto rispetto ai riferimenti spaziali invece che vediamo della relazione dovuta all'accesso a nuovi mercati o clienti potrebbe suggerire che la regione Lombardia ha già un pregresso posizionamento delle imprese in questo campo quindi questo valore perlomeno dall'indagine sembra emergere più legata ad una sostanziale presenza dell'accesso a nuovi mercati che non ad una carenza quindi non mi serve così tanto la relazione perché in qualche modo la possiedo di già ho già strutturato la mia azienda per fare questo sempre parlando con le imprese attive con tre più addetti siamo andati a vedere quali fossero i motivi della relazione beh l'industria chiede il sviluppo di nuovi prodotti e processi ovviamente la riduzione delle cose è trasversale quindi si colloca al primo posto ma assolutamente trasversale l'organizzazione aziendale motiva una maggiore flessibilità ne ha già parlato il dottor Verrecchia prima di questo quindi bisogna rimodulare l'organizzazione aziendale alla luce della pandemia e le imprese dell'industria vedono valori maggiori di quelli regionali sia in relazione all'accesso a nuovi mercati e clienti sia per l'internazionalizzazione anche se questi valori risultano allineati con le geografie di riferimento rimanendo sempre nella misura delle imprese attive con tre più addetti andiamo a vedere quali sono state le principali difficoltà nell'attivare le relazioni sempre per marco settore economico sono le imprese industriali a dichiarare maggiori difficoltà di attivazione delle relazioni le imprese della Lombardia non riportano però particolari difficoltà nell'attivare questa relazione e un'indicazione interessante rimane legata alla localizzazione come vedete in Lombardia la localizzazione incide positivamente sulla facilità di attivazione le difficoltà legate alla propria localizzazione mentre sono per l'Italia 5.8 e 4.2 per il nord ovest per la Lombardia crorano 3.6 quindi vuol dire che la localizzazione ha un aspetto importante ovviamente per le imprese permangono i vincoli dimensionali ne abbiamo già parlato a lungo sia a livello nazionale sia per grande ripartizione territoriale sia per regione nel dettaglio dell'industria le imprese industriali Lombarde abbiamo visto presentano un vantaggio localizzativo le barriere legali regolatorie o gli oneri burocratici amministrativi sono maggiormente percepiti nella regione per quello che riguarda l'industria pur dichiarando una sostanziale facilità di accesso nell'attivare le relazioni per l'industria il valore è peggiore di quello riferito all'insieme dei settori e questo è interessante da analizzare per le imprese permangono ancora i vincoli dimensionali sia a livello nazionale sia per grande ripartizione territoriale e sono ancora maggiori per la regione è un profilo molto interessante quello della nostra regione il fatto di presentarsi di fatto con nessuna difficoltà di poter fruire di un posizionamento localizzativo interessante ci porta sicuramente un vantaggio però poi viene eroso ad esempio da questo 9.6 delle barriere legali e così e anche questo è un punto su quale riflettere passando alle imprese attive con 10 più a 10 ora andiamo a vedere quali sono le relazioni in qualità di committente ma per area funzionale interessante quindi va bene instaurare la relazione ma con che area vado a instaurare questa relazione ovviamente anche in questo caso la Lombardia si presenta assonante con il profilo del nord ovest dell'Italia con un'evidenza particolare ovviamente per l'industria che non a caso abbiamo scelto poi come verticalizzazione la maggiore area funzionale interessata dalla relazione ce l'aspettavamo all'attività principale ma perché fa un po' da ombrello fa un effetto alone raccoglie molte azioni risaltano per la nostra regione la progettazione la ricerca e sviluppo l'innovazione e le tecnologie informatiche è una direttrice molto molto importante l'ha già fatta vedere molto bene il dottor Verrecchia inoltre abbiamo un marketing particolarmente attivato andando nel dettaglio dell'industria l'attività principale ovviamente permane al primo posto con valori maggiori rispetto al totale dei due macrosettori ma in questo caso risulta ancora maggiore la percentuale per la progettazione ricerca e sviluppo e innovazione quindi vuol dire che l'industria si è già indirizzata su quel versante le restanti aree funzionali sono interessate ovviamente ma in linea con gli altri riferimenti spaziali utilizzati andando a vedere chi sono le imprese partner in questo caso quali sono i settori di attività economica delle imprese partner vediamo che l'industria permane sempre come riferimento nella lettura anche di questa di questa dimensione le imprese partner sono quelle legate agli altri settori manifatturieri in particolare e le attività professionali scientifiche e tecniche sono indicate come partner in Lombardia in misura maggiore rispetto ad altre geografie il settore di attività economica chimica e farmaceutica si distingue come partner anche in questo caso il dottor Verrecchia prima ha parlato di Bavia non a caso insomma l'indicazione è robusta il profilo regionale è più vicino a quello del nord ovest che a quello nazionale e anche in questo caso ci ritroviamo con le cose dette questa mattina nella plenaria quando abbiamo visto le possibili assonanze regionali all'interno di profili di impresa e di addetti anche all'interno dell'industria nella verticalizzazione le imprese partner sono quelle legate agli altri settori manifatturieri abbiamo già parlato relazioni verticali di filiera il settore attività economica chimica e farmaceutica si distingue come partner per l'industria abbiamo già indicato la meccanica l'elettronica e l'automotive presentano il valore maggiore per questa tipologia di relazione quindi come committenza e come parci ma anche questa è una cosa interessante da vedere ma sappiamo ovviamente la meccanica in Lombardia annida molti localismi quindi è un punto di forza della nostra regione mi avvio rapidamente alle conclusioni per rimanere nei tempi la Lombardia si presenta come una regione dinamica e in sostanziale assonanza con l'Italia ma con alcune peculiarità debilie l'attitudine dell'economia lombarda ad espandersi più o meno di quanto ci si dovrebbe attendere il rapporto alla struttura produttiva iniziale ha indicato un rallentamento in particolare nel macrosettore delle costruzioni ma anche nell'industria e nel commercio mentre permane positiva l'abbiamo visto nei servizi non commerciali e nelle energie e acqua l'industria vede una specializzazione maggiore di quella italiana pur se in diminuzione rispetto al 2011 quindi c'è una contrazione parliamo sempre di addetti e non del numero di imprese anche il commercio si presenta specializzato e i servizi non commerciali si rafforzano nel 2018 in termini di relazioni lo sviluppo dei nuovi prodotti e l'accesso alle nuove competenze e tecnologie posizionano la regione prima delle altre geografie di riferimento quindi prima del nord ovest e prima dell'Italia tra le aree funzionali attivate dalla relazione con le imprese risaltano per la regione Lombardia la progettazione la ricerca e sviluppo l'innovazione e le tecnologie informatiche con un marketing particolarmente attivato in Lombardia le imprese non riportano particolari difficoltà nell'attivare le relazioni e abbiamo visto che la localizzazione incide positivamente sulla facilità di attivazione delle stesse le attività professionali scientifiche e tecniche sono indicate come partner in Lombardia in misura maggiore rispetto alle altre geografie il quadro è confortante il quadro pre-pandemia sembra darci un ampio substrato per poter essere anche più confidenti in un'effettiva ripresa molte grazie sono a disposizione per le domande molte grazie 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 professore confidiamo tutti in questa ripresa allora la parola adesso alla dottoressa Paola Monti di Banca d'Italia prego e l'audio dottoressa grazie se forse bloccata l'icona se no in basso non so se la regia può eventualmente proviamo a verificare cosa sia successo un attimo di paziente grazie i comandi ecco dottoressa Monti può ricondividere gentilmente abbiamo avuto qualche problema perfetto eccoci forse dovremmo esserci mi sentite adesso sì sì la sentiamo prego benissimo allora innanzitutto ringrazio l'ISTAT per aver organizzato questo evento di divulgazione dei risultati del censimento e per aver invitato la Banca d'Italia a contribuire l'evento serve a far conoscere lo strumento uno strumento che promette di contribuire a dare in tempi più rapidi informazioni accurate comparabili a livello europeo e sperabilmente anche con maggior dettaglio territoriale il mio il mio intervento partirà dalle indicazioni del censimento per dare qualche informazione aggiuntiva proveniente dall'analisi svolta dalla Banca d'Italia e con uno sguardo sulle evoluzioni più recenti dell'attività delle imprese lombarde il censimento fotografa le imprese regionali nel 2018 e presenta approfondimenti di grande interesse i cui dati possono essere esaminati in dettaglio con la Banca d'Italia messa a disposizione dell'ISTAT e quindi questo è una cosa molto interessante per gli utilizzatori delle statistiche e abbiamo sentito in sessione plenaria che sarà possibile anche avere accesso a dei micro dati quindi un contributo molto importante per l'analisi anche se l'economista è interessato spesso molto preferibilmente all'associazione con i valori dell'attività delle imprese il dato micro sulla popolazione arricchisce comunque l'interpretazione ed è comunque un primo passo per l'interpretazione con altre statistiche e penso anche per l'ISTAT per costruire nuove statistiche più complete in merito alla demografia di impresa come è stato detto il censimento conferma rispetto al 2011 una prevalenza nel tessuto imprenditoriale di piccole imprese una maggiore presenza in Lombardia di grandi imprese una prevalenza ancora di imprese a controllo familiare tutti fatti questi importanti per interpretare la performance dell'economia regionale come è già stato evidenziato anche nei precedenti interventi il censimento rivenda anche dei mutamenti nella frequenza delle imprese e di addetti per settore che però confermano tendenze di lungo periodo di crescita nei servizi rispetto all'industria ma si evidenzia almeno nei dati per esempio sugli addetti che industria e costruzioni perdono peso relativo non solo peso operativo ma anche addetti in valore assoluto anche se l'industria continua a rimanere un settore di specializzazione relativa della regione nei servizi anche qui un altro fatto interessante sono i servizi non commerciali che traenano l'incremento degli addetti e tra i servizi non commerciali il contributo maggiore deriva dalle attività di noleggio agenzia di viaggio seguite da alloggio ristorazione servizi professionali e tecnici mentre diminuiscono gli addetti alla finanza e assicurazioni e come si può dire quasi che i settori più colpiti della crisi di inizio decennio scorso come le costruzioni e la finanza abbiano un po' ceduto il passo ad attività che sono state colpite dalla crisi pandemica attuale come le agenzie di viaggio le loggio e ristorazione quindi in qualche modo c'è stata un po' una sfortuna nell'evoluzione della specializzazione della regione e hanno anche però lasciato spazio ad attività innovative come i servizi professionali scientifici e tecnici di cui il cui ruolo abbiamo visto anche evidenziato nella precedente presentazione e anche ci sono stati dei segnali di maggior crescita di alcune attività industriali legate alla sostenibilità ambientale come si diceva l'economista può essere interessato non solo al numero delle imprese agli addetti ma anche al valore che le imprese e il valore economico che le imprese producono e considerando il valore aggiunto i cambiamenti strutturali il messaggio non cambia molto anche se le differenze nelle variazioni dei settori diventano meno accentuate e l'industria risulta invece continuare a dare un contributo positivo alla crescita del valore aggiunto mentre si ridimensiona abbastanza il contributo dei servizi non commerciali questi cambiamenti sottendono questi cambiamenti strutturali sottendono a una ripresa dell'economia che dal 2014 ha sperimentato una fase di espansione del PIL culminata nel 2019 in questo periodo il PIL della regione ha superato i livelli precedenti alla crisi finanziaria globale andando meglio dell'Italia la crescita è però stata insufficiente a tenere il passo con le regioni della UE ad essa confrontabili che sono tra le più avanzate nell'Unione le nostre analisi indichiano anche che nella fase di ripresa la Lombardia aveva iniziato a colmare il divario di crescita rispetto alle regioni di confronto anche grazie a un recupero della produttività del lavoro come si può vedere nel grafico di destra il quadratino rosso che è un po' aumentato rispetto alle fasi precedenti e meno per la Lombardia e questo recupero di produttività del lavoro è in un'altra analisi che non riporto c'è un segnale che derivava anche da un aumento della produttività totale dei fattori che è una migliore misura dell'efficienza di utilizzo degli input quindi segnali positivi prepandemici sempre nostre analisi e qui su dati ISTAT indicano che a livello strutturale nel periodo in esame quindi quello della ripresa prepandemica l'incremento della produttività del lavoro era derivato in larga misura dall'industria in senso stretto il cui valore aggiunto non era cresciuto molto i dipendenti sono diminuiti ma in questo modo in qualche modo rivela o indica un aumento di produttività e questo non a caso infanto l'industria è anche uno dei comparti più sottoposti alla concorrenza internazionale e più propenso all'innovazione come emerge anche dagli approfondimenti del censimento su innovazione tecnologia mercati delle imprese che sono stati presentati in precedenza distinguendo per dimensioni di impresa le imprese lombarde hanno anche mostrato una produttività superiore alla media italiana e nel nord-ovest che è riscontrabile nelle diverse classi dimensionali con vantaggi particolarmente marcati tra le imprese più piccole come si vede nel grafico a destra negli histogrammi più a sinistra nel gruppo per esempio delle imprese con 0,9 dipendenti e via via discendendo ho citato l'innovazione tecnologica l'internazionalizzazione come possibili canali di incremento della produttività perché permettono o stimolano un più efficiente uso degli input e un miglioramento o una diversificazione dei prodotti e dei processi non ripeto le indicazioni del censimento che sono state precedentemente esposte molto brillantemente ma per aggiungere qualche informazione appunto proveniente dalle nostre analisi che aveva rilevato nel 2017 e 18 un incremento degli investimenti in tecnologie avanzate che sono appunto quelle internet mobile o cloud internet of things intelligenza artificiale bit data robotica stampa 3D quindi in tutte queste tecnologie le imprese della regione avevano aumentato gli investimenti e nel 2018 circa il 60% delle imprese avevano fatto un simile investimento ovviamente la frequenza maggiore si aveva per quelle che per le imprese che avevano investito in queste nuove tecnologie fino al 20% del totale dei loro investimenti riguardo riguardo all'attività innovativa che risultava nel censimento un po' meno frequente in Lombardia anche le nostre analisi con dati che comparano con indicatori che possono essere comparati anche a livello europeo indicano che mentre la spesa in ricerca e sviluppo delle imprese Lombardia era cresciuta nel periodo post crisi finanziaria quindi qui abbiamo dati nel periodo 2013 2017 ed era superiore alla media italiana ma la distanza dalle regioni della UE di confronto permaneva tuttavia i risultati in termini di output risultavano più in linea con quelli europei grafico di destra con un'eccezione per i brevetti mentre barchi design o l'innovazione di prodotti e processo copubblicazione con pubblico e privato non erano particolarmente distanti dai dati di altre di altre aggregazioni di paesi e superiori tendenzialmente superiori all'Italia il censimento sui temi mercato e delocalizzazione produttiva conferma anche la vocazione della regione all'internazionalizzazione abbiamo avuto ampie informazioni in merito all'ampiezza del mercato delle regioni che evidenzia come l'internazionalizzazione sia selettiva più frequente nell'industria in senso stretto è correlata positivamente con la dimensione di impresa e relativamente poco frequente per le imprese della Lombardia e anche nazionali che tendono avere il loro mercato nel mercato regionale su questo e anche la presenza all'estero è un fenomeno per pochi soprattutto per la presenza più strutturata e anche però riguardo all'internazionalizzazione la Lombardia che aveva ha avuto come l'Italia delle fasi di riduzione delle quote sul commercio internazionale nella fase diciamo fino alle alle crisi globali dell'inizio decennio del secolo dell'inizio del decennio scorso nel periodo di ripresa aveva iniziato era riuscita a difendere le proprie posizioni sui mercati di sbocco nello scambio di beni come indica questo grafico in cui comunque diciamo la variazione la crescita delle esportazioni regionali era rimasta sempre un po' più contenuta rispetto alla dinamica del commercio mondiale altre indicazioni sull'internazionalizzazione della regione indica che era aumentata anche la consistenza degli investimenti esteri in Lombardia quindi dimostrano una certa una buona attrattività della regione più degli investimenti all'estero delle imprese regionali un'altra caratteristica che emerge dalle relazioni internazionali delle imprese Lombarde è che le imprese con sede in regione si distinguono in Italia per essere esportatrici di servizi alle imprese quindi abbastanza questa diversificazione nei servizi ad alta conoscenza si riscontra anche nell'internazionalizzazione delle imprese Lombarde purtroppo adesso iniziamo ad arrivare a che cosa alla nuova fase e la pandemia ha colpito l'economia Lombarda più prima e più di altre regioni in Italia e la ripresa in atto fino al 2019 si è tradotta in una rusca contrazione come indica il dato italiano pubblicato dall'Istat che è stata superiore a quella degli altri paesi avanzati della UE e che secondo informazioni al momento disponibili sarebbe stata invece più anche più marcata in Lombardia e ha pesato su questo andamento ha pesato fortemente il lockdown nella prima parte del 2020 e qui riporto alcune indicazioni sulle chiusure ma non non mi soffermerò eccessivamente se non per dire che è stato molto forte anche per un comparto come l'industria che invece successivamente ha potuto ritornare ad operare e riprendersi e però voglio appunto evidenziare anche come i dati dell'Istat che sono stati diffusi lo scorso anno molto tempestivamente hanno aiutato moltissimo a poter in quella fase iniziare ad avere contezza dell'impatto che le chiusure avrebbero avuto sull'economia della regione noi avevamo fatto anche un po' una stima su quanto poteva essere la differenza tra le misure ufficiali prese legalmente e poi le varie deroghe e gli effetti di filiera sull'interazione delle possibili aperture che alcune imprese avrebbero potuto fare in quanto inserite in alcune filiere comunque l'indagine covid che è stata presentata dall'Istat fornisce sicuramente informazioni molto più adeguate e aggiornate e un altro elemento che appunto durante la pandemia ha anche determinato una contrazione degli investimenti programmati delle imprese a inizio 2020 con indicazioni di revisione a ribasso della stessa in autunno quindi prefigurando un fermo di quelle attività di investimento che avevano ripreso negli anni successivi e che sperabilmente riprenderanno in futuro magari con una diminuzione dell'incertezza e con stimolati magari anche dalle prospettive di maggiori investimenti pubblici un altro aspetto che prima di avviarmi alle conclusioni volevo sottolineare sugli effetti della pandemia ancora che riferiscono a fine 2020 quando abbiamo svolto il sondaggio che rilevava appunto un peggioramento delle condizioni reddituali perché il 45% delle imprese prevedeva di chiudere l'esercizio inutile contro oltre il 70% del 2019 e l'impatto sulla liquidità con circa il 35% delle imprese che segnalava una diminuzione delle disponibilità liquide in analogia con quanto rilevato anche dall'indagine Covid dell'Istat anche il nostro sondaggio rilevava come per far fonte alle carenze di risorse finanziarie le imprese siano ricorse a nuovo credito bancario al differimento di rimborsi su debiti finanziari in essere riduzioni straordinarie di alcune voci di spesa e rivisto i tempi di pagamento con clienti e fornitori quindi la crisi Covid si è in divenire e richiederà sicuramente uno sforzo informativo ulteriore che però appunto l'Istat ha già avviato e quindi io avevo pensato quali potessero essere le implicazioni per le edizioni future sui censimenti e molte delle domande o delle riflessioni che avevo posto come idea per le future edizioni del censimento sono state anticipate nelle approfondite indagini Covid che sono state fatte e comunque ritengo che probabilmente anche il sondare questi aspetti attraverso un indagine una rilevazione molto più approfondita come può essere quella del censimento possa essere utile e sicuramente saranno utili i dati sulla demografia d'impresa data la grande incertezza sull'evoluzione della crisi e sui suoi possibili effetti selettivi ma ci sono molti approfondimenti del censimento del 19 che rispondono a questioni rilevanti nello scenario pre-crisi pandemica ma che in molti casi saranno validi anche il futuro e quindi avere informazioni comparabili sulle stesse domande e post-crisi sarebbe analiticamente prezioso l'innovazione digitalizzazione e sostenibilità ambientale saranno argomenti trasversali da approfondire anche alla luce del PNRR e le strategie di imprese in termini prodotti mercati modalità di approvvigionamento vendita presenza sul mercato interno e estero anche se continueranno a essere di grande interesse potrebbe essere interessante anche approfondire un aspetto sull'evoluzione di proprietà controllo e gestione delle imprese anche con attenzione all'eventuale cambiamento di controllo verso investitori stagliani o stranieri e un altro aspetto che lega appunto le innovazioni tecnologiche con le modalità di lavoro delle imprese e che ha interessato molti di noi durante questa crisi matemica è testare o indagare a fondo il lavoro a distanza se quando come e perché sarà usato nella situazione pandemica spero di aver rispettato i tempi ringrazio per l'attenzione e passo la parola al moderatore grazie grazie dottoressa Monti per questa valorizzazione dei nostri dati e anche poi l'arricchimento appunto con i confronti con le vostre fonti passo adesso la parola a Federica Ancona sull'impresa e la sostenibilità grazie buongiorno a tutti mi associo ai ringraziamenti che per la parte per l'invito per l'organizzazione di questo invento e cercherò di non rubare troppo tempo vista anche la tarda ora e semplicemente la mia presentazione si concentrerà su una tematica che è quella della sostenibilità dello sviluppo sostenibile questo perché il mio ente a cui appartengo Polis Lombardia che è un ente regionale che si occupa di supporto alle politiche ha intrapreso da tempo ha iniziato nel 2017 la predisposizione di un rapporto dedicato proprio a questa tematica e soprattutto in una chiave di tipo regionale mentre già appunto Istat anche Eurostat e tutte le altre organizzazioni internazionali si cimentavano a livello di paesi di antinazioni non c'erano ancora contributi a livello regionale e per questo abbiamo pensato che poteva essere di interesse anche per la stessa regione Lombardia proprio per cercare di capire e di monitorare nel tempo quello che era il percorso intrapreso a livello regionale verso lo sviluppo sostenibile in una logica di fornire un supporto conoscitivo utile poi all'attività programmatoria regionale il nostro rapporto adesso non entro nello specifico però è articolato in capitoli uno per ogni goal e anche propone anche un confronto della Lombardia rispetto ai 21 paesi della UE che appartengono all'Ox quindi paesi più sviluppati consapevoli che questo confronto sembra ardito ma sicuramente per dimensione peso economico la Lombardia può tranquillamente essere paragonata con altri paesi europei scusate ad esempio qui a titolo esemplificativo ho fatto riferimento a uno solo di goal poi ovviamente sono trattati tutti qui ho preso questo perché è il goal dedicato al consumo responsabile al consumo e alla produzione responsabili e quindi si applicava bene alla tematica del giorno perché è trasversale e ha ricadute su qualsiasi settore di attività e inoltre nel nostro capitolo l'abbiamo affrontato concentrandoci sul tema del binomio risorse e rifiuti che è alla base del sistema produttivo e che diventa di grande attualità e anche può diventare sempre più critico per quanto riguarda il posizionamento qui vi propongo un grafico che abbiamo realizzato nell'ultima edizione del rapporto in cui paragoniamo rispetto ad alcuni indicatori che affrontano il tema appunto della raccolta dei rifiuti posizioniamo la regione rispetto a questi paesi ai 21 paesi dell'Ocse UE della UE appartenenti all'Ocse e come potete vedere la Lombardia presenta un buon posizionamento rispetto a questo indicatore e soprattutto anche ben posizionata rispetto al corrispondente indicatore nazionale e questo nel tempo si è mantenuto questo posizionamento e ci auguriamo che possa mantenerlo anche nei prossimi anni mentre invece nello specifico un altro indicatore che abbiamo usato solo per analizzare la situazione lombarda e quindi non più in confronto con i paesi europei è quello della propensione delle imprese ad adottare pratiche sostenibili utilizzando ci rendiamo conto che può essere limitativo ma ci è sembrato interessante comunque come un contributo all'analisi il numero di organizzazioni e imprese che hanno che sono registrate hanno ottenuto la certificazione e la certificazione ambientale secondo il dato del 2019 che era fermo a giugno questo è sempre relativo all'edizione 2020 del nostro rapporto erano 214 i soggetti registrati un dato ancora molto contenuto però è interessante in relazione vedere al panorama nazionale come comunque la Lombardia rappresenta il totale delle certificazioni lombarde è oltre il 20% del totale nazionale e il dato è incoraggiante perché era in crescita rispetto al dato del 2018 e quindi è come dicevo un segnale incoraggiante si tratterà di vedere nel proseguo con l'impatto della pandemia se questo percorso proseguiamo poi proprio perché ci stiamo concentrando e ci stiamo concentrati su queste tematiche quindi sul tema della sostenibilità abbiamo utilizzato molto con grande interesse i dati che Istat ha messo a disposizione del censimento delle imprese per approfondire questo tema consapevoli che il fatto che sono fotografo nella situazione come è già stato ricordato pre-pandemia però ci sembrava utile a corredare il quadro che avevamo già un po' ricostruito con altre fonti e qui vi riporto un approfondimento di analisi che abbiamo fatto su quello che emerge dal censimento in relazione alle azioni che sono state intraprese dalle imprese con tre più addetti a favore della sostenibilità sono state circa il 65% e queste sono anche state analizzate in relazione alla classe dimensionale ovviamente il numero di azioni o il coinvolgimento risulta maggiore al crescere della dimensione aziendale come era facile prevederlo è interessante vedere che tra le iniziative tra le principali iniziative riguarda quello di revisione di ridisegno del processo produttivo e quello dell'adozione di nuovi modelli di produzione che ha interessato un quarto delle grandi imprese e soltanto circa un 12% o un 13% delle piccole imprese poi di nuovo il tema della certificazione ambientale che interessa oltre la metà delle grandi imprese mentre invece si riduce un po' meno del 40% nelle medie e l'11% nelle micro piccole e poi a seguire abbiamo il tema della compilazione dei bilanci o delle rindicantazioni che passa dal 30% nelle grandi imprese fino a un 3% nelle micro piccole imprese per quanto riguarda poi abbiamo utilizzato ulteriori informazioni presenti nel censimento che riguardano il tema degli investimenti quindi un coinvolgimento rilevante da parte dell'impresa in termini di sostenibilità che dà conto di quanto l'impresa è coinvolta sul tema della sostenibilità e in questo caso si tratta di un 42% di imprese sempre con tre più addetti che hanno dichiarato di aver effettuato investimenti per la gestione efficiente e sostenibile dell'energia e dei trasporti e come è evidenziato nel grafico tra le misure che hanno trovato maggior spazio ci sono quelle dell'installazione della sostituzione di impianti o apparecchiature più efficienti il 31% circa circa un 10% gli investimenti hanno riguardato l'isolamento termico degli identifici o la loro realizzazione a basso consumo energetico mentre invece meno realizzate sono le misure che riguardano l'installazione di impianti per la cogenerazione e produzione di energia termica o la produzione di energia elettrica un altro contributo che ci è stato fornito dalle informazioni del censimento è quello delle azioni che hanno preso le imprese per ridurre il consumo di risorse naturali e anche per gestire i rifiuti per cui vediamo che in tema di rifiuti abbiamo circa quasi un 79% di imprese che sono state coinvolte in azioni di raccolta di riferenziata e di riciclo un 46% di gestione dei rifiuti per contenere le sostanze inquinanti per quanto riguarda poi il tema dell'acqua dell'utilizzo dell'acqua quasi un 45% delle imprese dichiara di avere intrapreso azioni per ridurre il consumo dell'acqua e un 13% ha migliorato il trattamento delle acque di scarico e un 5% le ha riutilizzate e ha cercato di intraprendere azioni per il riciclo per quanto riguarda i materiali il 40% delle imprese ha cercato di introdurre azioni volte a risparmiare il consumo di materiali l'utilizzo di materiali nei processi produttivi oppure anche utilizzare nel 16% circa dei casi l'uso di materie prime secondarie per quanto riguarda infine poi il tema dell'inquinamento in particolare circa il 33% dichiara di essere stato coinvolto in azioni volte a contenere l'inquinamento acustico e o luminoso e invece circa un 25% le emissioni nell'atmosfera quindi l'inquinamento dell'aria quindi questo era un po' le analisi che hanno diciamo che abbiamo sfruttato delle informazioni fornite dal censimento Istat per approfondire le riflessioni che stiamo facendo sulla nuova edizione del rapporto 2021 che non potrà che affrontare anche il tema di come la pandemia ha impattato sul percorso intrapreso della regione che ha un percorso a luci e ombre rispetto a tutti i gol ha un posizionamento come quello che vi ho presentato per il gol 12 e alcune di queste vi anticipo alcune di quelle delle riflessioni che stiamo portando avanti per cercare appunto di verificare soprattutto se come in prima battuta si è ipotizzato che la crisi economica conseguente alla pandemia abbia avuto un effetto positivo in realtà come anche emerso dalle presentazioni che mi hanno preceduto sicuramente la situazione è ben più complessa e sicuramente dovremo approfondire maggiormente e in questo ci verranno sicuramente aiuto eventuali dati che si renderanno disponibili su analoghi a quelli ad esempio delle rilevazioni che ha condotto Istat nel 2020 e soprattutto un'altra questione che un po' è già stata anticipata quello dei divari divari che sono stati generati che si sono rilevati a livello generale sociale ma che quindi sono ma che sono anche di vari che si stanno che si sono acuiti anche a livello economico dovuti un po' al tema delle restrizioni quindi le filiere che quindi abbiamo filiere e settori che sono stati maggiormente dipendenti dalla domanda interna che sono stati maggiormente penalizzati dalle misure che sono state prese per contenere la pandemia mentre invece filiere legate più a conoscenze specialistiche che invece al contrario si sono rafforzate come anche emerso anche da alcuni dati che sono stati presentati alcune settori non tutti i settori cioè l'impatto non è stato negativo per tutti alcuni settori hanno al contrario avuto anche incrementi di fatturato durante il periodo durante il 2020 infine un'altra riflessione che mi pareva interessante portare all'attenzione è quella della messa in discussione di questa pandemia su quello che è l'equilibrio che è stato raggiunto da alcune dinamiche che hanno caratterizzato lo sviluppo quantomeno della regione negli ultimi decenni quindi l'equilibrio che si era instaurato tra produzione locale e produzione decentrata e quindi da qui la necessità di ripensare come strategiche le catene di fornitura il loro equilibrio e soprattutto le localizzazioni di alcuni settori produttivi ad esempio l'alimentare il farmaceutico il biomedicale e anche conseguentemente alcune produzioni chiave attraverso anche azioni di reshoring che possono anche essere supportate da intervento pubblico sicuramente per portare avanti queste riflessioni per arrivare a un'evidenza che sostenga o meno quello che stiamo ipotizzando ci saranno di grande utilità i dati che già molto tempestivamente è stato messo a disposizione e sicuramente anche come anticipato dall'intervento che mi ha preceduto le tipologie di informazioni che sono state investigate nelle rilevazioni del 2020 possono essere sicuramente di grande interesse per le prossime edizioni del censimento proprio per confrontare per una adeguata comparabilità tra due periodi specifici pre e post pandemia io con questo concludo e vi ringrazio grazie grazie Federica allora sono le 13 e 45 io avevo pensato di porre delle domande di carattere generale ai tre relatori esterni però allora oppure facciamo veramente un botte risposta ecco abbastanza sintetico se siete d'accordo io dall'esposizione del professor Mariani mi era venuto appunto così un dubbio riguardo la capacità delle imprese lombarde di di riprendere lo sviluppo delle crisi che c'era stato cioè di quanto oppure ribalto la domanda di quanto il covid ha frenato ha frenato questo sviluppo ecco se è così una sua valutazione indipendentemente adesso dalla citazione dei dati in estrema sintesi grazie sì molte grazie riprendo diciamo quanto già esposto da faramondi questa mattina e da verrecchia poc'anzi nel senso che se le cause diciamo di chiusura e le aziende che chiudono non riaprono in Lombardia sono l'1,9% contro l'1,7% dell'Italia vuol dire che in qualche modo insomma forse ha avuto un effetto maggiore comunque sono ancora molto contenute perché il 46,7% delle imprese dichiara che non metterà in atto nessuna strategia per far fronte alla pandemia quindi c'è una sostanziale diciamo un po' di confidenza di robustezza nel poter andare avanti una cosa interessante tornando sempre alla relazione del dottor Vitalini è legata all'intensificazione delle relazioni e delle participe con le imprese che in questo caso nell'indagine Covid-2 posiziona da Lombardia il valore più alto con l'8% sia rispetto al nord-ovest che all'Italia quindi diciamo che probabilmente potremmo ripartire speriamo bene grazie grazie mille anche della sintesi dottoressa Monti lei ha parlato di produttività no? ha citato i dati di produttività ma quindi qual è a suo parere una sua valutazione il rischio che corrono adesso le imprese lombarde di vedere ridotta la loro produttività o di raggiungere i livelli pre-crisi grazie direi che la crisi appunto ha avuto un impatto estremamente eterogeneo tra le imprese e dopo una prima fase in cui sono state colpite le attività ad ampio spettro la crisi si sta concentrando un po' su alcuni settori specifici le imprese più produttive generalmente sono correlate hanno anche caratteristiche che sono correlate con altre caratteristiche positive di impresa che dovrebbe renderle più forti e quindi anche in considerazione delle politiche di sostegno o delle politiche che sono state attuate di congelamento della situazione attuale probabilmente le imprese più produttive più forti che nella situazione pre-covid avevano anche una situazione finanziaria una condizione finanziaria più solida maggiori disponibilità liquide potrebbero essere quelle che soffriranno meno dalla crisi pandemica e probabilmente sono anche imprese più internazionalizzate quindi meno dipendenti dal mercato interno dalla domanda interna che sembra essere stata quella che ha più sofferto in questa fase e quindi ha più colpito alcune imprese quindi potrebbero essere quelle meglio posizionate anche per guidare eventuali riorganizzazioni dell'assetto di mercato futuro e le fragilità potrebbero continuare invece con le imprese più piccole che probabilmente sono quelle che anche avevano mostravano caratteristiche di debolezza maggiori nella fase pre-covid e quindi diciamo sarei ottimista sulle imprese più avanzate più produttive perché magari erano quelle che avevano già investito in tecnologie avanzate internazionalizzate forse un rischio per le imprese più avanzate o internazionalizzate potrebbero essere una diversa velocità di uscita dalla pandemia nei diversi paesi e quindi potrebbe dipendere dal posizionamento nelle filiere internazionali di produzione e vendita e quindi magari alcuni competitor potrebbero avere alcuni competitor che essendo posizionati in paesi che escono prima dalla pandemia potrebbero avvantaggiarsi rispetto a alcune imprese italiane poi adesso si sta manifestando un po' un problema dal lato delle materie prime quindi ci sono un po' di questi aspetti che potrebbero rendere difficoltosa la situazione di alcune imprese nostre molto avanzate o produttive ma probabilmente speriamo che anche attraverso le adeguate politiche di sostegno per riuscire ad uscire da questa fase pandemica che si spera possa essere non di lunghissima durata ovviamente dipenderà anche dal tempo con cui usciremo dalla crisi quindi forse spero di avere sufficientemente risposto non voglio utilizzare altro tempo esattamente Federica l'ultima attendiamo ovviamente con molto interesse quell'uscita appunto dei dati di cui tu c'è dato insomma qualche anticipazione la perplessità come citava prima la dottoressa Monti e sulle piccole imprese su vari aspetti quindi immagino anche sulla sostenibilità tu hai qualche anticipazione ci puoi dare già una tua valutazione su quelli che potrebbero essere i risultati appunto poi del vostro rapporto delle vostre analisi condotte grazie allora sì diciamo la sensazione è che dall'attività di monitoraggio che abbiamo intrapreso in questi anni e che comunque la consapevolezza e la sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali oramai è un po' un dato di fatto è un po' acquisita quindi sono diciamo comportamenti che sono stati già da tempo intrapresi sia a livello sociale collettivo ma anche sia a livello di imprese e quindi si ritiene che possano avere un carattere di tipo strutturale quindi magari ci può essere un freno cioè la pandemia può avere un po' rallentato quello che è l'orientamento verso la ricerca di forme produttive più sostenibili probabilmente sulle piccole imprese l'idea è che sicuramente quello che è l'impegno maggiore degli investimenti ovviamente sarà maggiormente frenato rispetto a medio-grandi imprese però la sensazione l'idea che abbiamo un po' maturato è che il percorso è un po' segnato anche in questi anni non abbiamo assistito a tornare indietro se non su alcuni indicatori più di carattere economico di povertà o di altro tipo ma su quello che è la sensibilità e le tematiche più strettamente ambientali dalla gestione dei rifiuti ai consumi dell'acqua all'utilizzo dell'acqua insomma tutto il tema anche dell'inquinamento anche se c'è molto ancora da fare in generale e non riguarda solo le imprese ma sicuramente anche le imprese io la sensazione che abbiamo e la nostra un po' opinione è che potrà essere un po' eventualmente rallentato ma non sicuramente fermato grazie grazie Federica per la risposta allora io chiuderei i lavori ringrazio tutti i relatori e i partecipanti che hanno resistito fino a quest'ora e mettetemi anche ringraziamento all'apomiglio e al supporto segretariale e anche organizzativo buona continuazione di giornata e arrivederci alla prossima presentazione buon pranzo arrivederci grazie arrivederci grazie